No, è una qualche madre, lo so, lo so che avete fretta, lo so che avete fretta, ma allora è una falsa sfida. Allora, vi faccio gli auguri per il matrimonio, come vi chiamate ragazzi? Sara e Gianluca. Com'è? Chiara e Gianluca. Sara e Gianluca. Chiara. Chiara, dove è una cosa che fa? Chiara. Chiara, dove è una bevizia, come è una bevizia. Chiara. 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 Grazie per la visione!